... Allora, come si chiama indianetra? Come si chiama indianetra? La castagnana, i suoni dove andano, perché si fa pure le cose andano... Eh, rischia delle castagne, eh? Eh, ma da dove viene questo strumento? Da dove viene questo strumento? Sala Consilino. Ah, qua sotto, quindi la palla del Diano. Allora, prima si facevano di castagne, c'è un alice, un po' finito. Adesso la modernità va avanti come le zampogne con le ange canne e con le ange sintetiche. E anche questo è diventato sintetico. Perché quello di corteccia, originalmente, dopo un paio d'odore si secca e non suona più. Come si chiama questo flauto? Allora, noi in diretto nostro lo chiamiamo flauto, flauto di castagno. Vabbè, flauto, questo fa capire che nasce prima la nostra lingua e poi l'italiano. Vabbè. Esatto. E allora ho provato a farlo in sintetico e ci hanno più o meno la stessa funzione. Ah. Adesso l'ascoltiamo. Ascoltiamo. Voi vi chiamate? Sabato Viciconda. Sabato Viciconda, a posto. Vabbè. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non è semplice sull'anno, è tutta una questione di giro e di giro, per fare tutte queste giornalità che avete ascoltato. Grazie, sei stato spettacolare. Gente come te non nasce più. No, veramente bravo, complimenti.